Grazie, grazie Presidente. E allora oggi commentiamo il decreto Ristori. Ristori, cito testualmente il nostro dizionario, benefica compensazione dell'indebolimento o affaticamento. Bene, Presidente, io sono un ristoratore, cioè sono una persona che nella vita esercita la nobile arte di ristorare, cioè di servire e di fornire servizi alle persone che fuori dall'ambito domestico vivono una fragilità. E quindi servire e ristorare. Allora, vedere usato questo termine oggi, Ristori, abbinato a questo decreto, mi indigna profondamente. Mi indigna perché è un appropriamento in debito di un nobile termine per una cosa che non lo rappresenta affatto. Perché non lo rappresenta affatto? Perché il termine corretto doveva essere risarcimento. Questo era il termine che si sarebbe dovuto utilizzare per questo decreto. Invece è stato chiamato Ristori e potrebbe sembrare un errore casuale. In realtà così non è. E vorrei ripercorrere brevemente il percorso che porta e che spiega anche la differenza fra risarcimento e ristoro. Bene, vede, Presidente, noi abbiamo avuto la prima ondata della pandemia a marzo dell'anno scorso. Ci ha colpito tutti. Ci siamo trovati impreparati. Siamo stati solidali. Gli italiani sono stati perfetti. Hanno obbedito a tutto quello che gli è stato detto. Si sono adeguati alle normative. Le imprese si sono adeguate alle normative. Ne siamo usciti bene perché siamo arrivati all'estate con un indice di contagio veramente molto vicino allo zero. E allora quest'estate, quando ci veniva chiesto ancora di avere poteri straordinari, il Governo e i suoi ministri, il ministro Azzolina giocava con i banchi volanti, il ministro Speranza scriveva il libro su come aveva sconfitto la pandemia. Ma nessuno si è preoccupato veramente di evitare una seconda ondata. E allora che cosa succede poi a ottobre? Che dai primi di ottobre il contagio riparte in maniera molto importante. Riparte il contagio fino ad arrivare al 25 ottobre quando il Presidente del Consiglio in sua ennesima apparizione televisiva chiede agli italiani nuovamente pazienza, chiede nuovamente agli italiani di chiudersi in casa. Lo fa promettendo un Natale sereno, un Natale come ristoro dell'animo, perché gli italiani hanno sentimenti molto forti rispetto al Natale e soprattutto come una promessa di supportare l'economia, perché una chiusura natalizia nel nostro Paese è evidentemente disastrosa dal punto di vista dell'economia. E che cosa fa? colpevolizza gli italiani per aver fatto le vacanze d'estate. Li colpevolizza dicendo che questa seconda ondata arriva perché d'estate gli italiani sono andati in vacanza. Però permettete, c'è qualcosa che non mi torna. Se i contagi ripartono dal 10 di ottobre fino ad arrivare a un picco al 25 di ottobre quando viene chiesto un nuovo lockdown, è vero o non è vero che il periodo massimo di incubazione di questo virus, è vero che il Governo non ci ha capito ancora molto e lo vediamo in tutto quello che fa ogni giorno, però questo credo che sia abbastanza evidente in lapalissiano che il periodo di incubazione siano 14 giorni. E allora, se dal 10 di ottobre andiamo indietro di 14 giorni, arriviamo al 25 di settembre. Ora è vero che si vuole far nascere Gesù Bambino qualche ora prima, ma non possiamo sicuramente spostare Ferragosto al 25 di settembre. Perché? Che cosa è successo il 25 di settembre? Era Ferragosto e gli italiani erano in vacanza o abbiamo riaperto le scuole il 25 di settembre? Abbiamo riaperto le scuole ed è quindi evidente che il contagio è ripartito e deve smettere questa narrazione che colpevolizza gli italiani per le loro vacanze. Il contagio è ripartito con la riapertura delle scuole, quando il Governo non ha saputo organizzare le scuole e organizzare i trasporti che portavano i ragazzi a scuola. E allora, se è vero come è vero che questa seconda ondata, come vi ho dimostrato, è colpa di questo Governo, la responsabilità comporta un risarcimento. Ecco perché quando il Presidente Conte viene a chiudere di nuovo le nostre regioni, divertendosi con il Ministro Speranza a giocare ai pennarelli sui colori e colorando l'Italia di vari colori, doveva prevedere un risarcimento adeguato per una responsabilità che loro stessi avevano, quella di aver provocato questo danno economico. Il risarcimento adeguato deve essere proporzionato al danno, deve essere un risarcimento proporzionato al danno procurato. Intanto c'è la prima beffa che ci era stato promesso un Natale sereno e invece evidentemente oggi sappiamo che un Natale sereno non lo avremo né dal punto di vista dei sentimenti né dal punto di vista economico. Qual è l'altra beffa importante? Parliamo dell'entità di questi risarcimento. Io vi faccio un esempio molto semplice. Un ristorante, perché ho la fortuna di poter esprimere ad alta voce quello che milioni di italiani pensano, un ristorante che fattura mediamente un milione vuol dire che ha un fatturato medio mensile di circa 80 mila euro. La prima tranche di risarcimento a fondo perduto era del 15% del mese di aprile, quindi vuol dire che di 80 mila abbiamo dato a questo ristorante 12 mila euro. La seconda ondata di risarcimento è doppia rispetto alla prima, automatica, quindi diciamo che da 12 ne abbiamo dati altri 24. Questo vuol dire che siamo arrivati a 36 mila euro di risarcimento su un fatturato di un milione, che riproporzionato vuol dire il 3,6%. Dico di più, sottosegretario. Quel ristorante ha perso mediamente fra il 60 e il 70% del fatturato. Sa quant'è? Da 600 a 700 mila euro. Allora, chi ha perso da 600 a 700 mila euro di fatturato? Gli ne diamo 36 mila. Vuol dire che gli stiamo dando il 6% di risarcimento per un danno che gli abbiamo provocato. Guardi, il 6% è veramente... Non possiamo non metterlo vicino al risarcimento che ha fatto la Merkel. 75% della perdita di fatturato, 6% noi. Allora, vede, io non posso non fare una riflessione. Questa causa di risarcimento a chi l'aveva affidata il popolo italiano? L'aveva affidata al Presidente Conte, l'aveva affidata all'avvocato degli italiani. Allora, il nostro Presidente ha fallito, oltre che come Presidente del Consiglio, ha fallito come avvocato, perché se io ho una causa di risarcimento e il mio avvocato mi risarcisce col 6%, ha miseramente fallito in questa cosa. E di questo dobbiamo prenderne atto. Dobbiamo smettere di ragionare con numeri complicati. Dobbiamo dare semplicità alle nostre aziende, comprensione. Non si può fare un provvedimento, ristori, ripeto, di 188 pagine, dove i commercialisti devono spiegare, devono spiegare alla gente. Perché andiamo in televisione a dire abbiamo dato 8 miliardi, abbiamo dato 50 miliardi, abbiamo dato 25 miliardi. E la gente si chiede ma a chi l'hanno dati? A chi li hanno dati? Io oggi ho la fortuna di poter esprimere il sentimento di tutti i miei colleghi ristoratori. E la domanda è che cosa vi abbiamo fatto? Perché c'è questo accanimento? Un accanimento feroce nei confronti del mondo e dell'impresa? Un accanimento feroce nei confronti dei ristoratori? Un accanimento feroce nei confronti degli albergatori? È vero, qualche segnale migliorativo l'avevamo avuto. Il decreto rilancio ad agosto esce una norma che aiuta gli albergatori. Poi scopriamo che invece aiutava solamente il suocero del Presidente del Consiglio. E questo è veramente deprimente. Se poi aggiungiamo altre piccole cose, come mettere 3 miliardi del recovery fund sul turismo in un settore che solo quest'anno perde 52 miliardi, questo ci fa capire. E poi avrei voluto dire altre cose, purtroppo il tempo è tiranno. Devo, non posso, non dire questa cosa che è ancora più indigna. Mi faccio concludere, Presidente. Articolo 28, l'ultima beffa. Articolo 28 di questo decreto. Posso leggere? Licenze, premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà. Come vi siete permessi, come vi siete permessi di mettere a fianco a povera gente che ha bisogno di aiuto, che non può fare un Natale con le proprie famiglie in serenità, con detenuti che vengono mandati a casa. Noi non possiamo andare a casa a trovare i nostri genitori, noi non possiamo esercitare le nostre aziende e i detenuti possono andare a casa. Come vi siete permessi di metterli nello stesso documento, in pagine a fianco. Questa è una vergogna e la vergogna ho cercato a lungo nel vocabolario. Non ho trovato parola migliore per esprimere questo sentimento. Grazie.